Il treno regionale 11358, delle ore 8.04, proveniente da, la Spezia Centrale, è diretto, a, Genova Voltri, e in arrivo al binario, 11. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, a, Genova San Pierdarena, Genova Cornigliano, Genova Sestriponente, Genova Pegli, Genova Pra. Treno in arrivo al binario 15. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti! Il treno regionale 11358, delle ore 8.04, diretto, a, Genova Voltri, e in partenza dal binario, 11. Ferma, a, Genova San Pierdarena, Genova Cornigliano, Genova Sestriponente, Genova Pegli, Genova Pra. Treno in arrivo al binario 15. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. 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 Allontanarsi dalla linea Il treno Intercity 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 Il treno regionale 2179 delle ore 8 e 20 proveniente da Milano Centrale e diretto a Genova Brignole e in arrivo al binario 20 Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla non effettua fermata intermedia non effettua allontanarsi 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 Il treno Intercity 658 delle 1.18, diretto a Milano Centrale, è in partenza dal binario 18, ferma a Tortona, Voghera, Pavia. Il treno regionale 2179 delle 1.8 e 20, diretto a Genova Brignole, è in partenza dal binario 20. Non effettua fermate intermedie. Non effettua fermate intermedie. Il treno regionale 6055 delle 1.8 e 27, proveniente da Aquiterme, è diretto a Genova Brignole, e è in arrivo al binario 14. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non effettua fermate intermedie. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 60 55 delle ore 8 e 27 diretto a Genova Brignole è in partenza dal binario 14. Non effettua fermata intermedie. Il treno regionale veloce 25 06 delle ore 8 e 30 proveniente da Genova Brignole è diretto a Torino Porta Nuova è in arrivo al binario 18. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. A. Runco Scrivia, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Novi Livre, Alessandria, Asti, Torino Lingotto. Annuncio ritardo. Il treno Eurocity 141 di Tello delle ore 8 e 56 proveniente da Milano Centrale e diretto a Naisville arriverà con 10 minuti di ritardo a causa di un malore di un passeggero. Ci scusiamo tra il disagio. Treno in arrivo al binario 20. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ferma, a, Runco Scrivia, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Novi Limure, Alessandria, Asti, Torino Lingotto. Grazie a tutti. Il treno Intercity Night 1916 delle ore 8.42, proveniente da Siracusa, è diretto a Milano Centrale, è in arrivo al binario 14. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, a, Tortona, Voghera, Pavia. Annuncio ritardo. Il treno Eurocity 141 di Tello delle ore 8.56, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Naisville, arriverà con 10 minuti di ritardo, a causa di un malore di un passeggero. Ci scusiamo per il disagio. Il treno Intercity Night 1916 delle ore 8.42, diretto a Milano Centrale, è in partenza dal binario 14. Ferma, a, Tortona, Voghera, Pavia. Il treno regionale 6157 delle ore 8.45, proveniente da Aquiterm. E' diretto, a, Genova Brignole, è in arrivo al binario 13. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non effettua fermate intermedie. Allontanarsi da quattro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A. Genova-Brignole, è in partenza dal binario 13. Non effettua fermata intermedie. Il treno Intercity 505, delle ore 8.51, proveniente da 20 miglia, è diretto a Roma Termini, è in arrivo al binario 18. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, A. Genova-Brignole, Ratallo, Chiavari, La Spezia Centrale, Massa Centro, Viareggio, Pisa Centrale, Livorno Centrale, Ceccina, Follonica, Grosseto, Civitavecchia, Roma Ostiense. Grazie. 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 17. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, A, Savona, Albenga, Alassio, Diano Marina, Imperia, Porto Maurizio, Sanremo, Ventimiglia, Monaco, Monte Carlo. Annuncio ritardo. Il treno intercity, 5.05, delle ore 8.51, diretto a Roma Termini, partirà con 10 minuti di ritardo. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale 11.232, delle ore 9.01, proveniente da Levanto, è diretto a Savona, è in arrivo al binario, 11. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, A, Genova-Sampierdarena, Genova-Cornigliano, Genova-Sestri-Ponente, Genova-Pegli, Genova-Pra, Genova-Voltri, Arenzano, Cogoletto, Barazze, Celle, Alvisola. Il treno regionale 21.109, delle ore 8.57, proveniente da Busalla, è diretto a Genova-Brignole, è in arrivo al binario 14. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non effettua fermate intermedie. Annuncio ritardo. Il treno EuroCity 141, di Pellò, delle ore 8.56, diretto a Niceville, partirà con 15 minuti di ritardo, diversamente da quanto già annunciato. Ci scusiamo tra il disagio. Il treno regionale 21.109, delle ore 8.57, diretto a Genova-Brignole, è in partenza dal binario 14. Non effettua fermate intermedie. Annuncio ritardo. Il treno InterCity 5.05, delle ore 8.51, diretto a Roma-Termini, partirà con 10 minuti di ritardo. Ci scusiamo tra il disagio.